Non sono sicuro che deve essere accorto adesso, signor. Una volta finito, chiama tre basse e giriamo la data. Quindi do sempre il peso sul pallone, gambe aperte, solo piante del piede perché siamo su salto. Quindi ho la forza della benedetta. E proseguiamo. Questi esercizi, come in tutti, il segreto è non stare mai in punto di piede. All'interno è un po' allora, spingete all'interno, scusate il peso delle mani. Viete sempre le gambe e le gambe. Tenete in questa posizione qua, scaldiamo l'addominale laterale, posizione della scimmia, sposto il pallone, poso peso, sposto le gambe. Sposto il pallone, sposto il peso, sposto le gambe. Grazie. Non c'è il pallone. Sai che mi sono scogliato tutto il pallone che ho trovato su Spotify? Ma a me c'è l'interno. Non c'è l'interno, non c'è l'interno. Farò di scoglie col pallone. Scusate, non c'è l'interno. Non c'è l'interno. Non c'è l'interno. Non c'è l'interno. Ci alziamo, tiriamo su le braccia, chiusciamo a scaldare la parte della cadena muscolare, il punto dei piedi e avanziamo. Con le braccia stesse. Guardate bene sulla punta dei piedi, quando che anche le colpacce andranno a loro. non c'è l'interno. Tenendo questa posizione senza passare le braccia, divolta di fianco, per favore, si risponde via l'applicato, facendo la punta dei piedi. Tenendo bene stesse le braccia in modo che continui a scaldarsi la parte della schiena. senza alzarvi mai. Se vedete la punta delle basse, vedete quelle costanze. Ma non ti vuoi dare. Se no, avrò una gamma di basso. Non ti alzaremo. Qua basso. Arrivederci a questo punto, vediamo un attimo, posiamo un attimo il pallone alla nostra destra ed eseguiamo sconto di stenzione, scorciando in modo da dare mobilità. Questa qua, vado giù, quando salto, mi stendo gamba in braccia, e ritiamo. Mi stendo gamba in braccia, e ritiamo. Verso lì. Quando arriva rete, scontali indietro qui, già basso, lancio le braccia al dietro, al lato, e torrei indietro e indietro. Lancio le braccia al dietro, lato, e indietro. andiamo. Sperate sempre di portare le braccia alte sulle lecce. Cerchate di atterrare indietro sulle gambe già piegate. quindi, si piegano all'inizio e si piegano alla fine. Ultimo, che poi lo andiamo, e finisce il riscaldamento. l'ultimo, push a pleura, ritorniamo in basso, nella posizione di planca, avanziamo diagonalmente con braccio destro e capra sinistra, e piego. da qua, torno su, avanzo il diagonale, e piego. Torno su, avanzo il diagonale, da lì indietro, è buono, e spinge il braccio. questo è il periodo giusto in coordinazione, chiedi, che fatti. Guardi, quello vuol dire? no, ok, no, ok, potenzialino. Mi eseguito basso, pose signorini, per favore. Guardi, dico, vediamo, bravo, se non è più, mi sono morta. Ancora, non hai scoperto oggi. La vedrai di personale, vedete questo? Allora, ragazzi,